sera buonasera tutti i follower della pagina di casale lab questa sera mi farò un po compagnia in questa prima mezz'ora connesso io sono francesco saudino sono socio del direttivo e siamo adesso in attesa del intanto salutiamo i primi connessi della prima artista che si esibirà questa sera sulla nostra pagina e con i nostri follower che la mia amica sarà sant'agata non appena sarà con noi ci connetteremo e intanto vi spiego un po il perché anche di questa cosa noi come associazione abbiamo iniziato quest'anno una serie di weekend che abbiamo definito weekend della cultura in quanto ci siamo presi proprio l'incarico di fare una serie di iniziative come presentazione di libri che purtroppo ecco sarà intanto ti invito subito che purtroppo sono state interrotti causa forza maggiore per quello che sta accadendo e quindi nel invitarvi a restare a casa e a restare connessi intanto inizia ad invitare con noi sarà sono molto poco bravo con queste cose quindi abbiate un po di pazienza perché devo vedere come si fa penso che sia qui allora ecco qua trasmetti in diretta con ti trovo e sarà dopo di noi l'altro mio amico e socio gianluca e con un altro artista gianmaria modugno e vi ricordo che poi questa diciamo nostra iniziativa continuerà domani quando oltre alla musica avremo anche poesia e letteratura intanto invitiamo la mia amica sarà ci sei quasi sarà eccoti nel dividere lo schermo mi sa che si vede soltanto il mio mento mi sono rubato quello che uso in macchina per tenere fermo il cellulare e l'ho attaccato il computer ma è efficace come si fa tutto bene tu bene dai anche se io sto ancora lavorando però adesso è il weekend c'ho qualche ferie tu come la stai vivendo innanzitutto io la sto vivendo per certi versi bene altri male nel senso che quando ci viene imposta una cosa dobbiamo farla è per il nostro bene quindi prima ci mettiamo questa cosa in testa però comunque purtroppo è pesante perché comunque stare tutto il giorno a casa dopo un po finiscono le cose da fare anche se mamma praticamente ha fatto smontare tutta la casa dal capo di saluta intanto ti saluta intanto vedi che quindi ciao 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 ragazzi perché non leggo mai niente però c'è sempre insomma qualcosa da fare sempre la trovo beh poi nel tuo caso è comunque se è un artista è una passione così bella ti puoi esercitare tutto il tempo che vuoi in questo giorno di diretta quindi presentati a chi non ti conosce ai follower della pagina e di chi sei quali sono stati i tuoi progetti presentati sarà allora ciao a tutti ragazzi mi chiamo sala sant'agata sono di capua e la musica l'ho iniziata a intravedere a sette anni praticamente ero negli scout e iniziai qualcoro scout in chiesa e da lì insomma non l'ho più abbandonata mi è sempre piaciuto e piano piano imparato un po un po di strumenti attualmente suono oculere chitarra tastiera di là ho il mio bel dio noncello che è praticamente alto quanto me ma è lì fermo perché non mi accingo suonarlo non ci riesco perché no ci vogliono per forza lezioni non ci riesco da sola però mi piace tantissimo ho anche il violino e niente ho sempre sempre fatto cover su tutti i miei canali ciao ragazzi vi saluto piano piano sempre fatto cover su youtube instagram facebook però prima della quarantena insomma avevo iniziato a fare degli inediti delle canzoni mie tutta contenta e felice di questa cosa ma è successo invece avevo iniziato anche questo bel percorso e poi è arrivato il covid però dopo riprenderemo si sta bloccando un po tutti intanto vedo che le persone arrivano quindi sei anche autodidatta principalmente per quanto riguarda gli strumenti sì sì tutti quanti tutti quanti gli strumenti d'autodidatta e a volte difficile nel senso che secondo me mi pento un po di non averli studiati magari professionalmente perché penso che ti dia una un'impronta diversa però alla fine è bello anche esprimere la creatività così nel senso che se uno ci smette lo studia è bello anche questo se c'è creatività e talento si riesce comunque ad ovviare poi comunque la tua voce parla per te Sara quindi adesso lo ascolteranno anche tutti coloro che sono connessi hai preparato delle canzoni per noi per questo mini concerto poi ovviamente siamo aperte a richieste di chi già ti conosce chi ti conoscerà questa sera quindi se tu sei pronta puoi anche iniziare con la prima la zona e dici quale canterai per prima e noi ti ascoltiamo così intanto ne approfitto per aggiustare questa cosa perché lo sto mantenendo con la mano va benissimo ok nel frattempo c'è la l'ha giusto allora io inizierei franci dal mio consiglio iniziamo con la fucking perfect or fly me to the moon dimmi tu dai iniziamo con quella che è la mia preferita e come ho detto a sarò ho chiesto io di inserirla perché l'avevo scaricato sul cellulare perché mi piaceva esatto io l'ho messa in scaletta principalmente per francesco perché veramente dovevamo farla quindi prenderanno tutti quindi se sei pronta io mi zittisco e la devo cantare vai franci tu intanto giustai la sì ci faccio io solo lo devo mantenere sempre vai sarà mi zittisco mi zittisco mi zittisco mi zittisco ma Grazie a tutti 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 Franci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti